Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo una ricetta facilissima da realizzare, ma soprattutto buonissima! Classiche pizzette morbide e golose, ideale per le feste di compleanno, i buffet e gli aperitivi. Credetemi, sono morbidissime e buonissime! Vediamo subito come realizzare queste pizzette. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Iniziamo subito! Questa ricetta è facilissima perché non prevede l'uso della bilancia. Quindi, facile e veloce! Per questa ricetta io utilizzo la soia a gusto vaniglia. Voi potete utilizzare il latte. Vi servirà un bicchiere di soia, lievito fresco, quindi questo è un panetto da 25 grammi, ne utilizzo metà. e lo versiamo nella ciotolina. Ho riscaldato leggermente il mio bicchiere di soia. Prendete una ciotola, versate 5 bicchieri di farina 00 di grano tenero. Adesso ho verso il lievito con la soia, un cucchiaino di sale, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Amalgamate bene il tutto. Adesso versate mezzo bicchiere di soia. Amalgamate bene il tutto. Mezzo bicchiere di farina 00 di grano tenero. Questo passaggio è fondamentale per rendere le vostre pizzette davvero morbidissime. Verso mezzo bicchiere e un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Amalgamate bene il tutto. Continuate a lavorare il vostro impasto su una spianatoia. Mi raccomando, dovete lavorare benissimo il vostro impasto per qualche minuto. Dovete ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Allora, mettiamo il panetto in una ciotola. Lo togliamo così. Coprite bene il vostro panetto. Lo lasciamo in un luogo asciutto. e lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Trascorso il tempo necessario, prendiamo il panetto e cominciamo a lavorarlo bene. Questo è lo spessore che daremo alle nostre pizzette. Bene, adesso diamo forma alle nostre pizzette. Potete già accendere il forno a 180 gradi. Mi raccomando, il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi. Adesso, semplicemente con le dita andiamo a bucherellare le nostre pizzette, in un certo senso. Poi, prendete una ciotola. Versate la passata di pomodoro. Io utilizzo 700 grammi di passata di pomodoro. Un cucchiaino raso di sale. Origano. Amalgamate bene il tutto. Date largo spazio alla fantasia. Potete realizzare le vostre pizzette come volete, con qualsiasi condimento. Se volete, potete utilizzare anche solo 400 grammi di passata di pomodoro. Va benissimo. Io le faccio pienissime di pomodoro, però già 400 grammi, 400 ml di passata di pomodoro vanno bene. In forno a 180 gradi. Dopo 25 minuti di cottura, metto il formaggio sulle mie pizzette. Potete utilizzare la mozzarella, se volete. Io sto utilizzando un formaggio a pasta filata. In forno, nuovamente, per altri 5 minuti. Ecco qui, le nostre pizzette sono pronte. Mi raccomando, non fate caso al formaggio, perché ne ho messo davvero tantissimo. Io sono golosissima di formaggio e, come vedete, ho esagerato. Ma credetemi, queste pizzette da buffet sono davvero una delizia. Classiche pizzette da buffet, morbide, golosi, ideali per le feste di compleanno e aperitivi. Credetemi, sono buonissime. Provatele anche voi. Pizzette senza bilancia. Io spero che questo video vi piace, vi piaccia, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi, perché ci sono davvero tante video ricette super golose nel rivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella, così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete, potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Mmm, buonissime! Ciao, alla prossima!